ciao a tutti e bentornati nella mia cucina mi va di fare una cenetta veloce veloce e sfiziosa e allora prepariamo insieme una buona cenetta di ceci una bella zuppetta con dei crostini di pane con un pochino di tartufo scorzone grattato sopra una cenetta velocissima vediamo subito gli ingredienti cinci messi un trito di sedano cipolla e carota un tartufo scorzone estivo nero aglio e rosmarino e olio sale e pepe quanto basta mettiamo dell'olio in una padella sul fuoco e mettiamo il soffrittino di carota cipolla e sedano lasciamo cuocere per un pochino aggiungiamo anche un pochino di sale e lasciamo cuocere un po poi metteremo i ceci intanto prepariamo anche il panino che ho appena tagliato a dadini nell'olio sistemiamo l'aglio tagliato metà e pezzettini di rosmarino i rametti ridotti a pezzetti di pepe il pane questo sono i panini che ho fatto ieri alla torcuma e ne basterà uno per preparare il piatto facciamo insaporire bene aggiungiamo anche un pezzettino di sale e lo facciamo toccare giù con i ceci un pochino di acqua facciamo cuocere insieme una decina di minuti un pochino di pepe un pochino di sale senza esagerare poi alla fine assaggeremo se servirà aggiungerne ancora mettiamo dentro un bicchiere del frullatore e li frulliamo facciamo bella ricca zuppa di ceci e tartufo scorzone stilo ve l'avevo detto che era una ricetta veloce no? presto! grazie grazie